Buonasera, dunque è il momento del grande ritorno del cinema filippino che noi adoriamo da sempre, questa serata segna anche il ritorno di un amico, un regista, un produttore, un autore dei più maturi del cinema che si produce a Manila oggi. Dopo aver visto Prosti, dopo aver visto Gag and Boy, dopo aver visto Exodus, è la volta di un film assolutamente diverso dai suoi precedenti, è un film intimissimo, delicato, il film si intitola The Rival e voi avete capito che dirigilo. E ora, Eric Matti. Welcome back to dinner, Eric. Good evening, everyone. Nice to be back. I'm so happy to be back here in Udine, again for the fifth time. And this is maybe the third time my movie is going to be shown. It has no theatrical, it has not come out on cinemas, and I've shown it to friends only, and you're the next one who's going to see it. So, hopefully, you enjoy it. I'm just going to warn you, this movie is not an action movie. It's a coming-of-age tale, and I just wish you could spot my mother in the movie. Thank you. Si dicevamo, un film completamente diverso, un film sulla ricerca dell'amore, anche quando si sa forse l'amore è soltanto un sogno. Eric Matti. Grazie. Thanks. Thank you. Grazie.